Vamo fare la nostra ricetta, anche nel nostro software, chiameremo di creme di macadamia, e poi famiglia creme di frutto secco, per la dura di servizio, meno 11% in questo caso, che sarà una francia da vetrini da gente, o verrà in ipotetico 30%. Vamo dare una gordura media di 90, ma qui sarà un po' più alta sicuramente, perché la macadamia ha abbastanza gordura, poi proteine, 50 grammi di proteine, solido differente e nada, solido totale, ci siamo in 400, vamo vedere, può mettere 160. Quindi, il primo ingrediente è la macadamia, ok, 100 grammi per kg, mettere 100 grammi di macadamia, dopo passiamo ai nostri obiettivi, no, discusate, mettere prima lecce integrale, mettere 600 grammi di lecce integrale, come potete vedere, la nostra gordura è già arrivata a 97 grammi, perché? Perché la macadamia è abbastanza scella, tra i frutti secchi, penso che è quella che ha la più gordura di tutti, quindi non fa bisogno di poi mettere altri tipi di gordura. Seguiamo la nostra ricetta, quindi mettere le proteine, lecce un po' desnatato, 63 grammi, ok, lecce un po' desnatato, 64 grammi, Ora, il potere anticongelante, ci sono ancora 203 punti, andiamo in calcolatura, e scogliamo saccarosi e dextrosi, ok, andiamo a dare un 60% per la saccarosi, e un 40% per la dextrosi, 122 e 43 grammi, ok, saccarosi, dextrosi, 122 e 43 grammi, è tutto certo, un po' più dolce, ma non è un problema, faltano 9 grammi di solido, adesso abbiamo ancora che mettere la nostra liga neutra, diciamo che è tutto certo, vediamo, liga neutra, liga neutra per creme, 5, nel mio caso, e faltano 66 grammi, quindi questo dà, miglia miglia miglia, ok, camminando un po' duro, quindi faccio il seguente, mesmo che lembro, potrei lasciare, non è un problema, non è un problema, ma aumentare un po' questa dextrosi, se vuoi levare la parte 50, e poi ci sarà, 661, e poi, è, 659, pronto, ok, cremosità di ok, diciamo che, la nostra risetta sta pronta, con pasta di macadamia, la pasta che abbiamo fatto, lecci integrale, lecci un po' desnatate, saccarosi, dextrosi, di liga neutra, non bisogna di altri ingredienti, perché, perché già, abbiamo tutto.